già che ha citato Mauro Camilli di Siete Trasporti, io chiederei a questo punto a lui un commento perché mi sembra di aver capito che Siete Trasporti sarà un player strategico nel comparto ferroviario quindi un commento Velocemente, buongiorno a tutti e grazie ancora perché l'iniziativa è senz'altro degna di nota diciamo e quindi è giusto Siamo qui per lavorare, è un'iniziativa per lavorare, è un'iniziativa di lavoro Ma io da domani cambio ufficio lavoro da qui però per dire che effettivamente ho la fortuna pure io di lavorare da sempre nel mondo dei trasporti ferroviari e metropolitani sostanzialmente quindi quando parliamo di mobilità sostenibile noi ci sentiamo già, già siamo sulla parte 2 noi già facciamo mobilità sostenibile, fare infrastrutture per noi significa aiutare il paese a andare verso e quindi questo lo diamo per certo, per scontato Siete Trasporti nasce da un'iniziativa importante del Presidente Salvo Turrisi che ha deciso di diversificare l'azienda esisteva già il ramo trasporti da tempo, Siete è presente nella parte ferroviaria da sempre da quando ero piccolo, dopo l'università Siete era un punto di riferimento però è pur vero che ultimamente gli investimenti, ultimamente parliamo di 10 anni fa gli investimenti sulla parte ferroviaria e metropolitana erano un po' usciti dagli obiettivi del paese vediamo invece oggi, per fortuna dico io, un, forse troppo parliamo delle 4 milioni di anni tra cui una che è togliata siamo tra le aziende che ha vinto la gara quindi, eh no, 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 a posto il ricorso è stato bocciato quindi abbiamo vinto, è vero, è ufficiale la possiamo dire quindi però i temi sono due uno, giustissimo, parlare in modo diretto con chi leggifera poi perché spesso e volentieri dai bei ragionamenti fatti visti sui piani 3D, a portare a terra quel lavoro lì passa per una serie di burocrati, diciamo tutta la parte burocratica, permessistica che è di una difficoltà immane che spesso e volentieri è la parte più difficoltosa del progetto per chi realizza, voglio dire io, eh, qualche anno fa ormai ho partecipato anzi ero direttore tecnico della realizzazione della metropolitana di Mestre forse una delle più, delle ultime fatte, no? metropolitana, guida vincolata e lì soltanto lo spostamento dei sottoservizi è durato qualcosa come tre anni e mezzo per fare l'opera ce ne abbiamo messi dieci l'opera è importante però per dire, no? che a volte muoversi prima per tempo e pianificare insieme alle istituzioni significa dare un altro passo alla potenziale di mettere a terra le opere l'altro aspetto che oggi è il tema di tutti i settori e nel nostro settore si sente tantissimo è la mancanza di personale specializzato lo so che è un pianto che facciamo tutti però nel nostro caso per avere un tecnico specializzato che sa di che parla sul ferroviario ma dieci anni non sono sufficienti quindi un piano di acceleramento di formazione che veda dico le istituzioni a fianco delle aziende che spesso sono le uniche che hanno le competenze specifiche al di là di poi legarsi all'università piuttosto che ad istituti specialistici però se non mettiamo a fianco di questo l'impresa che ha il know-how all'interno per preparare le persone tra un po' ci abbiamo moriremo di lavoro, dico io abbiamo sette trasporti in realtà piccola se vogliamo baggettiamo 40 milioni di euro l'anno prossimo ma abbiamo un portafoglio di acquisito di 300 già abbiamo acquisito un'azienda del nord avremo modo di raccontarci nel tempo così non rubo spazio per far fronte un po' pure a questa carenza diciamo di mano d'opera abbiamo acquisito un'azienda del nord pure lei che faceva ferroviario una bella realtà si chiama la Bitfox di Treviso e siamo partiti dicendo vabbè così insieme riusciamo nel frattempo abbiamo acquisito entrambi lavori abbiamo più difficoltà di prima per metterli a terra per dire che uno dei temi importanti su cui dobbiamo ragionare è come trovare mano d'opera specializzata per mettere a terra tutto quello che è stato investito il PNRR ha visto un dicembre di gare che non si faceva il tempo nemmeno a leggerla che era già in scadenza quindi per me i due temi e basta finisco di il mio tempo i due temi focali sono questi arrivare in qualche modo con le istituzioni a trovare un percorso più veloce fermo restando l'integrità e la legalità e il rispetto delle regole questo è evidente ma anche e soprattutto trovare come mettere a terra le opere col personale specializzato grazie, grazie tante